L'incidente in retardo pomeriggio di giovedì 4 gennaio al polisportivo di Rivarolo Canavese ad essere coinvolta una ragazzina di 12 anni che mentre stava giocando con altri due amici nel sottoscala del bar della palestra, nel locale dove si trova la centrale termica per l'iscaldamento della piscina, ha preso la scossa. Sul posto sono immediatamente intervenuti la croce rossa di Rivarolo Canavese, i volontari del soccorso avanzato di Taduso, i vigili del fuoco di Rivarolo e i carabinieri anch'essi di Rivarolo. La ragazzina dopo le prime cure è stata trasportata al polo di protezione civile dove ad attenderla c'è la lei di soccorso del 118 per portarla all'ospedale Regina Margherita di Torino. Non pare in pericolo di vita, ha certamente in corso sulle cause dell'incidente. Grazie a tutti.